Momenti di tensione nella città di Capaccio Pestum. Alcuni ospiti della casa di accoglienza hanno lanciato pietre contro le auto della municipale. I nostri agenti non sono attrezzati per l'ordine pubblico. Si trovi un'altra soluzione. La sorveglianza del centro di accoglienza deve essere affidata a personale qualificato. Gli appartenenti alla polizia municipale non possono essere mandati allo sbaraglio. Il monito arriva da Angelo Rispoli, segretario provinciale di Salerno della CSA, che interviene sul fatto di cronaca avvenuto a Capaccio Pestum dei controlli presso la struttura per extracomunitari in cui si era registrato un focolaio di Covid-19. Erano stati incaricati gli agenti della polizia locale, ma nella serata di domenica la situazione è degenerata. Un'auto della municipale è stata raggiunta e danneggiata da una pietra, con il rischio per gli operanti di restare feriti. Esprimiamo solidarietà ai colleghi impegnati nel pattugliamento, afferma Rispoli, ma invitiamo soprattutto le istituzioni ad affrontare seriamente una situazione che rischia di degenerare. Gli agenti della polizia municipale devono essere esenti da quel tipo di servizio perché non sono attrezzati per l'ordine pubblico. Bisogna cambiare registro prima che qualcuno si faccia male sul serio. Mi rivolgo in particolare al sindaco Franco Alfieri, in passato sempre sensibile nei confronti della polizia municipale. La sorveglianza del centro di accoglienza va affidata a persone in grado di gestire una situazione così difficile e in possesso degli strumenti adatti.